a bascapè un piccolo comune del pavese immerso tra il fiume lambro e le risaie la sera del 27 ottobre 1962 sembra come tutte le altre l'estate è lontana il cielo è ancora carico di nuvole dopo la pioggia del pomeriggio quando all'improvviso una luce e un boato squarciano il cielo non è stato un tuono e nemmeno un fulmine non è un temporale che vuole ricominciare ma è un aereo un aereo che cade su quell'aereo ci sono tre persone il nero bertuzzi un pilota di lunga esperienza william mckayle un giornalista americano e l'uomo più potente d'italia su quell'aereo c'è il presidente dell'eni enrico mattei eccoci abbiamo voluto partire con l'inizio in realtà della puntata di cui si fa l'italia dedicata a enrico mattei dedicata anche alla stagione no che mattei ha assegnato al mistero della sua morte e a molti aspetti molti momenti che ci parlano però anche dell'oggi buonasera di nuovo a tutti grazie lorenzo baravalle francesco magni che è uno degli autori del podcast e tra l'altro più tardi ci raggiungeranno qui sul palco vedete queste due sedie vuote che presto insomma si riempiranno ci raggiungeranno sul palco jacopo penso e olimpia manzoni di spotify italia abbiamo pensato di coinvolgerli per parlare anche un po no del dietro le quinte di un podcast cosa come come si crea un podcast che differenzia con altri mezzi di comunicazione quindi oggi faremo questa narrazione del del caso mattei e del boom economico italiano ma avremo anche la possibilità di ascoltare e di confrontarci con jacopo e olimpia quindi il programma è finire a mezzanotte mezzanotte e mezza saremo severissimi speriamo che abbiate mangiato così almeno siamo tranquilli no la storia di mattei parte a bascapè siamo a pochissimi chilometri da linate l'aereo stava per atterrare e appena appena succede questo incidente dopo pochissimo tempo attorno al luogo dell'incidente cominciano a radunarsi un sacco di persone ci sono dei curiosi ci sono i contadini del posto ma poi arrivano anche la polizia naturalmente e dei giornalisti ad esempio c'è mario ronchi che è un contadino del di bascapè che racconta all'inviato del tg che ha visto un enorme esplosione una palla di fuoco in cielo e poi un'esplosione la sera al tg quel servizio andrà in onda e quando mario ronchi comincerà a descrivere di questa palla di fuoco nel cielo ci sarà un buco nell'audio c'è il servizio andrà avanti lui muoverà le labbra ma non c'è audio c'è anche un uomo particolare un uomo che incuriosisce il vestito scuro guida una jaguar non si capisce bene che cosa faccia lì incuriosisce un giornalista del corriere della sera questo giornalista del corriere della sera decide di seguirlo seguire questa jaguar che guida verso nord da bascapè per raggiungere milano ma si ferma un po prima e parcheggia davanti alla sede dell'ente nazionale idrocarburi dell'ENI e quell'uomo in vestito scuro entra all'ENI per capire però il mistero legato alla morte di Enrico Mattei per capire Enrico Mattei e come diceva Lorenzo per capire anche quella stagione incredibile dell'immediato secondo dopoguerra italiano è importante fare un salto indietro e raccontare chi era Enrico Mattei Enrico Mattei viene da una famiglia modesta è nato nel 1906 ad Acqualagna nelle Marche e figlio di un carabiniere di una casalinga quando ha 13 anni la famiglia si trasferisce a Matelica poco lontano da Acqualagna il giovane Mattei non ama la scuola ad eccezione della matematica la famiglia è numerosa in casa i soldi che entrano sono pochi per questo comincio a lavorare prestissimo operaio verniciatore in una fabbrica di letti poi alla conceria Fiore dove diventa direttore tecnico l'indole è ribelle discute col padre che vorrebbe che restasse a Matelica mentre lui vuole andare in città a solo 27 anni quando avvia l'industria chimica lombarda a Milano siamo nel 1933 alla vigilia della stagione che porterà alla seconda guerra mondiale e francesco che hai ricercato hai scritto insieme a noi queste altre puntate di cui si fa l'italia in un certo senso la storia di Mattei non è solo la storia di un industriale anche la storia di una figura della resistenza italiana e c'è un'immagine che ovviamente nel podcast non abbiamo potuto mostrare l'abbiamo descritta ma che vi possiamo mostrare adesso e questa fotografia che immagine è che giorno è? Siamo a Milano 25 aprile Mattei sfila alla testa del corteo dopo che la città è stata liberata ci sono alcuni personaggi fondamentali della resistenza in modo particolare Luigi Longo che lì a breve a breve insomma dopo un po' nel 1964 dopo la morte di Palmiro Togliatti diverrà il segretario del partito comunista italiano che traghetterà diciamo il partito fino alla forse più nota segreteria di Enrico Berlinguerra lungo che sarà una di quelle persone non facenti parte del partito di Mattei dell'area di governo ma con la quale Mattei intratterrà a lungo dei rapporti molto stretti durante questa sua avventura da presidente dell'ENI soprattutto perché in quella tela tessuta con i paesi arabi e con l'unione sovietica Mattei riuscirà a intrattenere dei rapporti molto molto intensi e c'è un'altra figura molto importante in questa foto tra l'altro sono i tre davanti no sono questi questi tre qua l'altra figura diciamo a destra se non se non sbaglio sì è un altro personaggio importante della resistenza che è Ferruccio Parri che fu anche uno dei primi presidenti del consiglio credo che poi più tardi lo ascolteremo più tardi lo ascolteremo senti abbiamo detto che Mattei è una figura della resistenza partigiano cattolico democristiano sarà poi la democrazia cristiana nel suo partito è un grande organizzatore già all'epoca e combina diverse cose no nel corso del della lotta di liberazione ma sì diciamo che Mattei che ha fatto anche vita di clandestinità durante durante la resistenza più che il partigiano dell'immaginario classico con il con il fucile spalle è stato sin da subito un grande organizzatore si vantava di aver ampliato a dismisura con numeri ovviamente un po così spannometrici diciamo non confermati dalla questura mai confermati soprattutto all'epoca le 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 fila del dei partigiani cattolici ma durante quella quella guerra di liberazione imparerà a organizzare imparerà a utilizzare i fondi e le risorse a disposizione umane non solo imparerà ad avere rapporti con chi combatte dalla sua parte pur non essendo esattamente nella sua squadra diciamo tanto c'è un episodio veramente rocambolesco possiamo dire da da film se si no merita è uno di quei classici episodi in cui se avessimo un podcast su Mattei ci dovresti dedicare almeno una puntata perché lui a un certo punto evade dal carcere di Como provocando un blackout a tutto l'impianto elettrico e provate a immaginare quest'uomo che comunque è un ragazzo è un ragazzo che arriva dalle marche abbiamo visto si trasferisce a Milano avvia la sua azienda chimica poi passa partigiano e lascia l'azienda nelle mani del fratello perché crede fortemente nella nella lotta di liberazione e quindi è un personaggio come dice Francesco giustamente non propriamente quello che ti immagini come il partigiano con il fucile in spalla eppure riesce ad architettare questa evasione incredibile e viene da dire ad un ad un elemento così importante gli viene affidata giustamente dopo la guerra una cosa importante no sì perché esattamente penso pochi giorni dopo questa foto quindi 1945 l'Italia appena liberata accade che Enrico Mattei riceve un incarico un compito riceve un incarico di cui non è proprio contentissimo ecco io prima ero abbastanza ironico perché mentre ad altri vengono affidati degli incarichi importanti a lui viene affidato l'incarico di liquidare l'agip cioè non aveva un'altra mission si direbbe oggi cioè prendi l'agip l'azienda generale italiana petroli mi viene sempre in mente l'altro acronimo perché doveva liquidarla perché era azienda gerarchi in pensione era l'azienda nata sotto il fascismo perché il fascismo era convinto di trovare pozzi di petrolio in tutto lo stivale non è andata propriamente così però appunto lui aveva il compito di chiuderla ma e qui vedi il il destino di un uomo no il destino di un uomo insito nelle azioni lui entra nell'agip studia le carte e capisce che lì c'è qualcosa capisce che sì forse davvero non c'è petrolio e non ci sono non ci sono tante risorse tante materie prime in italia ma capisce che c'è qualcosa e quindi comincia a temporeggiare temporeggia per prendere tempo con gli alleati perché in buona sostanza erano loro che volevano che si liquidasse l'agip e va proprio dal suo amico ruccio parri e gli chiede di non liquidarla cosa che non fa parri decide di seguire il consiglio dell'amico e lo lascia alla guida della dell'agip quindi in un certo senso diciamo la storia di enrico mattei all'agip che poi insomma diventerà di fatto eni o verrà così conglomerata nell'eni è una storia che parte da una ribellione cioè lui dice di no al compito che gli è stato affidato dice questo è un paese che ha bisogno di rilanciarsi e agip può essere uno strumento per rilanciarlo e quindi da questo rifiuto nasce poi la sua la sua storia e quelli che anni erano ve lo dico subito perché siamo subito dopo la seconda guerra mondiale no e qui una cosa che dobbiamo dire è che nel 1947 accade un passaggio molto importante si rompe l'unità delle forze antifasciste comunisti e socialisti sono estremessi dal governo lo stesso anno il partito socialista italiano il psi subisce la scissione a destra dei moderati guidati da saragat che si chiameranno poi social democratici l'uomo simbolo della politica italiana di questi anni che sono chiamati gli anni del centrismo è Alcide De Gasperi che era stato l'ultimo presidente del consiglio del regno d'italia e sarebbe poi stato il primo presidente del consiglio della repubblica italiana uomo di frontiera lo vediamo qui Alcide De Gasperi ed è lui ed è lui in un momento molto delicato per la storia del nostro paese nel 1946 subito dopo la seconda guerra mondiale subito dopo la sconfitta che a Parigi si trova a difendere la dignità dell'italia di fronte ai paesi vincitori ai paesi che la guerra l'avevano vinta che ci avevano sconfitto e abbiamo un video di quel momento del 1946 prendendo la parola in questo consesso mondiale sento che tutto tranne la vostra personale cortesia è contro di me ecco quello che dice De Gasperi è rimasto scolpito nella nostra storia perché lui si rende conto che è davanti un pubblico ostile perché l'italia è un paese che la guerra l'ha persa è un paese che ha contribuito alla devastazione del conflitto paese alleato della germania nazista insomma lo sappiamo e quindi De Gasperi che pure era antifascista quasi da subito che pure era stato di fatto emarginato dal fascismo si trova a dover in un certo senso chiedere scusa ai paesi che hanno sconfitto l'italia nella guerra e per questo dice sento che tutto al di là della vostra personale cortesia è contro di me e in quell'intervento però poi dice una cosa molto importante dice riconoscetemi comunque come espressione di una nuova italia di un'italia antifascista e democratica questi sono anni molto importanti diciamo anche per il contesto internazionale se vogliamo no perché io vi ho detto che nel 47 vengono estromessi i comunisti e i socialisti dal governo italiano fino al 1963 di fatto staranno fuori i socialisti e poi i comunisti fino al 76 in un certo senso no staranno fuori dalla maggioranza di governo bene il il nodo qual era che c'era un nuovo mondo a livello internazionale erano cambiate tante cose dopo la fine della guerra nasce la nato più o meno in quegli anni De Gasperi è il protagonista del collocamento del riposizionamento dell'italia sullo scacchiere internazionale nella nato ma anche nella nascente unione quella che poi c'era in quegli anni c'era un'italia che stava proprio lì sulla faglia tra est e ovest tra blocco comunista e blocco occidentale a livello geografico oggi non non ce ne accorgiamo così tanto ma all'epoca sostanzialmente la linea di gorizia la linea dell'adriatico segnava il confine tra diciamo il mondo libero il mondo occidentale guidato dagli stati uniti e il blocco sovietico il blocco comunista e come vi è composto anche dai paesi satellite dell'unione sovietica quindi l'italia stava lì e tantissime cose dei nostri decenni successivi si spiegano con questa posizione atipica mattei si muove su questa faglia si muove su questo confine delicatissimo tra occidente e blocco comunista e questo come vedremo gli creerà anche qualche qualche problema qualche qualche complessità l'italia oltre che sullo scacchiere internazionale era un paese in grande movimento anche sul fronte interno gli anni 50 agli anni di mattei sono gli anni in cui l'economia italiana ma più in generale la società i consumi le abitudini cambiano con una rapidità che non si era mai vista sono gli anni del miracolo economico e qui vediamo una 500 vediamo la 500 che è uno dei simboli di quegli anni perché una cosa importante da dire che l'italia che si ricostruisce l'italia che comincia a correre non è solo un fatto economico è anche un grande investimento emotivo è un investimento di sentimenti collettivi di passione riguarda prima ancora delle statistiche economiche che pure sono importanti riguarda cambiamenti dell'immaginario della vita quotidiana non di pochi ma di decine di milioni di italiani inizia a cambiare per esempio anche se lentamente in quegli anni tra 50 e 60 il ruolo sociale delle donne le donne iniziano a entrare nel mercato del lavoro più che in passato e in settori diversi e questo trasforma anche la percezione collettiva proprio del ruolo delle donne quindi gli anni 50 sono anni in cui come dire cambiano i consumi certamente sì vi dicevo dell'automobile che è un pezzo della trasformazione del boom ma potremmo citare gli elettrodomestici insomma qua vedete una credo sia una lavatrice con carica dall'alto dell'Ignis più o meno di quegli anni ci sono altre innovazioni che oggi come dire diamo più che per scontate la televisione per esempio ma anche i supermercati prima di quegli anni i supermercati in Italia non esistevano è un'innovazione che arriva dagli Stati Uniti dagli Stati Uniti perdon e vi faccio vedere vi faccio vedere un servizio televisivo che mostra come viene accolto non so se questo è il primo o uno dei primi supermercati in Italia il primo apre a Milano e questo forse è uno a Roma ma insomma siamo in una fase in cui veramente cambia il paradigma e cambia il modello di interpretazione del mondo a partire dal come si acquistano i generi alimentari e non solo a Roma al palato dei congressi dell'esposizione si può ammirare in funzione il supermercato americano lo slogan è semplice tutto alla portata di tutti ordinati come se fossero libri in una biblioteca tutti i generi alimentari lusingano il palato del consumatore con la loro suggestione pubblicitaria si va dagli antipasti e si finisce alla frutta e al dolce ma il bello è che il cliente va tutto da sé si rovina gioia con le mani sue è semplice come un ruoco e questo piace anche ai bambini finito il rifornimento non resta che passare alla cassa si pagare si paga come da noi questo è l'unico inconveniente del supermercato americano questo comunque è un tutorial questo ci dà l'idea di una cosa esotica all'epoca l'idea di un posto così grande così fornito di tutti i generi merceologici era dirompente non esisteva e quando vi dicevo prima della macchina degli elettrodomestici della televisione in realtà non sono innovazioni isolate l'una dall'altra sono innovazioni molto collegate che ci dicono davvero di quanto si trasforma in pochi anni la vita e l'immaginario del paese perché questo? perché il supermercato presupponeva che le spese fossero più corpose più cospicue si compravano più cose se si compravano più cose serviva un frigorifero a casa che non c'era fino a pochi anni prima se servivano più cose io le dovevo portare a casa queste cose e quindi l'automobile è una sorta di come dire ciclo di circolo di innovazioni che trasformano i consumi trasformano le abitudini e naturalmente prima citavamo la televisione che diventa diciamo nei libri degli storici che si occupano in questo periodo si dice che la televisione sia un frutto sia un acceleratore del consumismo degli anni 50 e 60 perché è acceleratore? perché la televisione è il luogo anche della pubblicità e di lì a poco in realtà non è leggermente dopo si diffonde per esempio un format abbastanza atipico direi che ci fa quasi sorridere oggi che è quello dei caroselli che erano possiamo dire gli spot televisivi dell'epoca si praticamente tu immagina di andare su youtube e hai solo pubblicità che praticamente è youtube oggi non se sei abbonato ok però si cioè bello ci mettiamo davanti alla tv e guardiamo pubblicità eppure è un format di enorme successo che ha segnato l'immaginario estetico anche di moltissimi oggetti che ancora oggi utilizziamo e la cosa curiosa del carosello sicuramente lo conoscete e adesso che parte la musica lo riconoscerete certamente questa è la sigla la cosa interessante del carosello è che in realtà nasce per aggirare una norma che non consentiva gli spot televisivi in una certa ora se non sbaglio e quindi si inventa questo formato serale che non è solo pubblicitario ma è anche un'opera diciamo così di arte cinematografica lo dimostra il fatto che a dirigere i caroselli ci sono stati alcuni dei più grandi registi italiani da Ermanno Olmi a Fellini e molti altri lo stesso Pasolini lo stesso Pasolini che poi si scagliò spesso il consumista Francesco una cosa che ti chiedo è legata alla percezione cioè prima ci dicevamo prima di cominciare chi oggi ha 20-30 ma anche di più anni non si rende conto della trasformazione rappresentata dal miracolo economico ma sì un po' perché essendo un periodo che si studia poco a scuola si ha un po' l'impressione che l'Italia passi dalla resistenza dalla lotta di liberazione dalla Costituzione agli anni di piombo cioè forse i periodi più famosi della storia relativamente recente solo che in mezzo ci sono due decenni e un po' di importantissime trasformazioni sociali e socio-economiche di cui stiamo parlando adesso e a cui noi poi di fatto dedichiamo due puntate dell'ultima stagione perché anche quella sul piano solo è dedicata a quello ma l'idea che nelle case degli italiani non ci fosse il salotto che era lo spazio dei ricchi o comunque dei benestanti perché era spazio sprecato quindi soldi inutili sia per gli affitti che per le case di proprietà che non erano tantissime ma anche perché per chi viveva di lavoro e di riposo il salotto non serve perché la casa serve per dormire serve per preparare da mangiare e laddove ci sono magari delle famiglie numerose in quello che noi oggi potremmo identificare come la sala da pranzo in realtà c'erano uno, due, tre letti e questa è una cosa che forse è ancora più difficile da immaginare perché bene o male tutti sappiamo che un tempo le automobili non c'erano il frigorifero non c'era però c'è una trasformazione fondamentale anche nella vita degli spazi domestici che cambierà anche l'approccio nei confronti della cosa pubblica di via poco queste enormi trasformazioni si legano alla figura di Enrico Mattei non solo perché gli anni sono quelli e vi do due dati tra il 1951 e il 1961 gli italiani che lavorano nell'agricoltura passano dal 42% al 29% 42% nell'agricoltura è impressionante visto quegli occhi di oggi e l'altro dato è che il prodotto interno lordo tra il 51 e il 63 quindi in poco più di 10 anni aumenta mediamente del 6% all'anno che è un ritmo da Cina se vogliamo oggi e forse neanche la Cina nell'ultimo anno ci sta dietro Mattei cosa c'entra con tutto questo lui dice no io sono ossessionato dall'idea di rendere l'Italia un paese moderno economicamente e per rendere un paese moderno cosa serve l'energia indubbiamente serve l'energia ma indubbiamente un cambiamento di paradigma così grosso ha più di un protagonista però senza ombra di dubbio e senza smentita Mattei è uno di quei protagonisti di questo cambiamento epocale di incredibile qui vedete una copertina che gli ha dedicato il Der Spiegel che lo descrive qui molto piccolo come l'italiano più importante dai tempi di Augusto che voglio dire cioè proprio un paragone anche recente voglio dire quindi ecco capite tu Lorenzo hai detto una cosa l'ossessione per l'indipendenza energetica a me questa cosa della storia di Mattei affascina da morire era letteralmente ossessionato dal rendere l'Italia il suo paese una potenza sullo scacchiere internazionale per farlo aveva bisogno di appunto cambiare il paradigma da agricolo a farlo diventare una potenza industriale e lo fa in diversi modi con diversi strumenti di pressione anche in maniera piuttosto spregiudicata a livello politico perché lui entra comunque in in Parlamento ci entra con la democrazia cristiana ma intrattiene dei rapporti un po' con tutti uso i partiti come un taxi salgo pago la corsa e scendo una frase che viene attribuita a lui quello che è certo è che avversari e alleati gli riconoscono di essere un uomo molto intelligente in grado di circondarsi di persone intelligenti e questo non è una cosa banale soprattutto in un leader penso sia una qualità piuttosto importante e poi lo fa prima abbiamo visto un'immagine con in una maniera molto moderna tenete presente siamo negli anni 50 siamo negli anni a cavallo con gli anni 60 lo fa con la propaganda perché queste ragazzi sono pubblicità della benzina che oggi d'accordo parliamo tanto di benzina ma va bene per un'altra roba ma qui abbiamo Raffaella Carrà come testimonial quindi lui capisce di aver bisogno dell'opinione pubblica della gente del popolo che gli venga dietro in questa sua marcia verso l'indipendenza energetica l'indipendenza energetica che si ottiene guardando alle materie prime non fa solo questo però lui trasforma l'agip in eni ed eccolo qua il famoso cane a sei zampe no? e Mattei che lo vuole e Mattei che vuole questo cambio di logo vuole dare un'immagine completamente diversa all'agip e la trasforma in eni ente nazionale idrocarburi e dicevo che appunto è importante capire che lui però fa anche qualcosa di un po' diverso non spinge solo sull'acceleratore dell'opinione pubblica non spinge solo sulla comunicazione ma Francesco cerca di fare qualcosa di un po' più politico anche sì perché in un paese che poi in realtà di petrolio ne era poco avere ottenere l'indipendenza energetica per seguire il sogno dell'indipendenza energetica vuol dire anche sfruttare la situazione internazionale lo dicevamo prima Mattei continua a perseguire questo sogno per l'Italia e decide di provare a scardinare questo sistema sfida le grandi multinazionali del petrolio soprattutto americane colossi come Standard Oil esso Texaco Royal Dutch Shell le chiama le sette sorelle perché dominano il mercato internazionale dell'energia con una sorta di oligopolio senza farsi davvero concorrenza lui ha un'intuizione anziché sperare nella benevolenza delle sette sorelle perché non andare a trattare direttamente coi paesi produttori perché non competere con i colossi internazionali offrendo condizioni migliori la sua è una visione stiamo parlando di un uomo che ha una visione per un paese non è un politico non è un primo ministro è un uomo di industria si statale ma è un uomo di industria è una visione che parla della nostra dignità nazionale come spiega lo stesso Mattei in un racconto che parla di due cani è un gattino e state attenti perché anche dove fa questo racconto è importante abbiamo parlato della comunicazione abbiamo parlato dell'importanza che dà Mattei alla forma non è una tribuna politica è un salotto di casa Mattei il presidente dell'Eni vi sta entrando in casa e vi sta spiegando la politica dell'Eni con questa storia in questa casa di contadini dove facevamo dove ci riunivamo la sera la prima cosa che veniva fatta veniva dato da mangiare ai cani e veniva preparato un grande gattino di zuppa per questi cani e io mi stavo togliendo uno stivale e vedevo questi due cani che erano dentro con la testa nel gattino e seguitavano a mangiare con voracità era una zuppa che forse bastava per cinque cani non per due in quel momento in quel momento in un angolo sentivo un miagolino e vede arrivare un gattino grande così uno di quei gattini dei contadini magri affamati deboli aveva una gran paura si vedeva perché vedeva i cani però aveva anche una gran paura e si avvicinò piano piano miagolando guardando i cani e siccome i cani erano immersi con la testa nel gattino il gattino seguitava ad avanzare arrivò sotto il gattino guardò ancora i cani fece un miagolio i cani erano dentro che mangiavano e con un zampino lo appoggiò all'orlo del gattino il bracco tedesco gli diede un colpo lanciando questo gattino a tre o quattro metri di distanza con la spina dorsale rotta il gattino glisse qualche minuto e morì questo episodio mi fece una grande impressione e l'ho sempre ricordato specialmente in questi anni e siamo stati il gattino per i primi anni avendo contro una massa di interessi paurosi contro di noi ci è sollevato una polemica terribile e abbiamo seguito a lavorare a rafforzarsi cercando di non farci colpire il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci dentro è una storia contadina è una storia di vita che tutti possono capire che tutti capiscono parla ai bambini parla agli adulti parla agli analfabeti c'era un tasso di analfabetismo molto alto in quegli anni parla a tutti e parla con un linguaggio semplicissimo poi subito dopo è divertente perché dice comunque Leny tutti devono essere orgogliosi del Leny perché vale mille miliardi di lire ed è un'azienda statale quindi è di tutti perciò riporta tutti come proprietari del Leny due parole su come fa queste contrattazioni perché d'accordo va bene avere una visione d'accordo avere un obiettivo un'ossessione però lui concretamente riesce a tradurla questa visione va dai paesi produttori paesi come va dallo Shah di Persia va in Iraq va in Libia e va in Algeria lo vedremo tra poco mentre le sette sorelle offrivano il 50% dei guadagni al paese da cui estraevano le materie prime lui offre il 75% non solo offre il 75% offre uomini altamente specializzati cioè manda del personale altamente specializzato a formare le popolazioni locali da cui estraggono e offre di costruire scuole e centri di formazione per le popolazioni locali soft power abbiamo imparato dagli americani in fare questa roba qua abbiamo imparato dagli americani col piano Marshall solo che c'è un problema l'Algeria in Algeria succede qualcosa ma diciamo che Mattei capì perfettamente nell'ambito della sua grande intuizione non soltanto in che modo poter vivere diciamo ballando sulla soglia di Gorizia ma anche quale potessero essere le prospettive di una potenza nascente come lui immaginava l'Italia nel periodo della decolonizzazione in 1960 quindi parliamo diciamo di due anni prima della morte di Mattei è noto nella storia diciamo dell'Africa come l'anno della decolonizzazione perché la stragrande maggioranza dei paesi vennero liberati si liberarono proprio in quegli anni in modo particolare nella quella parte d'Africa che si affaccia sul Mediterraneo qui intravedeva una grande prospettiva una grande possibilità per l'Italia e in modo particolare l'Algeria e la Tunisia oltre che i paesi di cui parlava prima Lorenzo sono i paesi su cui Mattei punta punta molto nel noto film di Francesco Rosi c'è una scena durante una colazione molto importante con uno degli amministratori delegati di una compagnia petrolifera americana e Mattei si alza sdegnato perché lui gli vorrebbe impedire di costruire un gasdotto in Tunisia e in modo particolare l'Algeria sta combattendo la sua lotta di liberazione di nuovo consiglio cinematografico ovviamente alla battaglia di Algeri e finanzia economicamente il fronte di liberazione nazionale la reazione francese dobbiamo dire appunto l'Algeria era una colonia francese si stava liberando perdona l'Algeria era una colonia francese si stava liberando da un dominio che durava da più di un secolo dal 1830 e di tutta risposta gli ambienti più oltransisti della Francia formarono l'OAS una organizzazione ecco qua insomma sì potete diciamo vedere plasticamente che cosa stesse accadendo Mattei non solo contrattava con i governi locali ma finanziava espressamente e dichiaratamente senza neanche nasconderlo il fronte di liberazione al pari di quello che faceva in Italia il partito comunista per cui questo lo poneva in un'ottica non probabilmente delle migliori e lì ci arriviamo perché poi si apre l'ultimo capitolo che è quello della morte dei motivi possibili però noi stiamo vedendo l'immagine che è molto attuale che è l'immagine di un gasdotto di un metanodotto che connette il cuore dell'Algeria all'Italia arriva a Mazzara in Sicilia dopo essersi come vedete inabissato nel Mediterraneo e poi sale fino al nord d'Italia è un'opera importantissima perché Mattei capisce l'importanza del gas questa è una cosa anche qui che oggi diamo per scontata anche se c'è stata ricordata direi nell'ultimo annetto ma Mattei capisce che il gas è importante che ci vuole una fonte di energia a basso costo per un paese che vuole rialzarsi che vuole ricostruirsi come l'Italia e quindi diciamo questo metanodotto che Mattei non vide perché è successivo il suo competente successivo questo metanodotto che oggi porta in Italia un bel po' di gas da ieri forse un po' di più esatto ieri il presidente del consiglio come sapete ha visitato proprio l'Algeria con l'amministratore delegato dell'ENI con il successore di Mattei Claudio Descalzi ecco questo metanodotto qui che vediamo si chiama Enrico Mattei è un amico dell'Algeria e della sua indipendenza e arriviamo però all'ultimo capitolo cioè perché è morto Enrico Mattei perché è morto Enrico Mattei è stato davvero un incidente ho detto prima che per capire la sua storia dovevamo capire il paese in cui si muove la sua storia dovevamo capire lui adesso però dobbiamo invece tornare al punto da cui siamo partiti da quell'aereo che cade da Bascapè e ai tanti misteri che alcuni collegano al mistero dei misteri nel 1972 il regista Francesco Rosi porta al cinema il caso Mattei che sposa l'ipotesi dell'attentato per reperire informazioni e preparare il film nel luglio del 70 Rosi ha chiamato il giornalista dell'ora di Palermo Mauro De Mauro fratello del linguista e futuro ministro dell'istruzione Tullio De Mauro due mesi dopo nel periodo in cui sta ancora lavorando alla sceneggiatura De Mauro viene rapito sotto casa nessuno sa che fine abbia fatto ancora oggi perché il suo corpo non è mai stato ritrovato nel 1975 Pierpaolo Pasolini scrittore poeta regista muore in circostanze poco chiare all'idroscalo di Ostia la sua ultima opera ancora incompiuta e pubblicata soltanto nel 1992 si intitola Petrolio è un'indagine sul potere italiano incentrata proprio sull'Eni e sulla figura di Eugenio Cefis personaggio tanto potente quanto riservato un passato da partigiano monarchico nella Val d'Ossola poi braccio di ferro di Mattei all'Eni da cui si dimette a gennaio del 1962 per tornare dopo la tragedia di Bascapè e la verità è che non c'è una risposta giudiziaria alla morte di Enrico Mattei c'è stata un'inchiesta diciamo recente sì perché subito dopo l'incidente di Bascapè i resti dell'aereo Morin Solnier un piccolo bimotore su cui viaggiava Enrico Mattei vengono lavati vengono stoccati e questa prima inchiesta degli anni 60 viene archiviata quando viene archiviata con causa incidente errore del pilota i resti dell'aereo vengono distrutti una cosa particolare allora un pubblico ministero un PM Vincenzo Calia riapre l'inchiesta i faldoni che va a cercare sono completamente vuoti allora prende delle nuove sonde nuove tecnologie le passa sul terreno di Bascapè e rileva dei resti ancora lì dell'aereo del Morin Solnier dei resti dei corpi dei tre morti e degli oggetti personali ora della favola la scientifica trova su questi resti del tritolo dei resti di tritolo che localizza 120 centimetri sotto l'abitacolo del pilota Ernerio Bertuzzi la bomba si è attivata quando ha aperto il carrello per la discesa c'erano delle minacce si parlava Mattei la moglie di Mattei dice che lui sapeva di essere un uomo nel mirino ed è per questo che viaggiava sempre con due aerei erano perfettamente identici sceglieva poi all'ultimo prima di salire quale avrebbe preso purtroppo però anche l'inchiesta di Calia viene chiusa con l'archiviazione non sappiamo chi è che ha ucciso Enrico Mattei non sapremo appunto probabilmente mai che cosa è accaduto in quel ottobre del 1962 non sapremo al 100% se è stato un incidente come si diceva inizialmente o se come sembra più probabile oggi è stato un attentato quello che sappiamo è che l'Italia in quel 1962 ha perso un alfiere un eccezionale direi alfiere dell'interesse nazionale e poi abbiamo veramente chiuso nel terreno fangoso di un campo di barbabietole a bascapè sotto la pioggia l'Italia ha perso un personaggio a cui è difficile dare un aggettivo solo potente ingombrante visionario abile spregiudicato intuitivo ribelle un uomo che pensava che l'Italia non potesse essere condannata a un'eterna miseria che la ricchezza non stava solo nelle risorse naturali ma nella capacità e nella volontà delle persone Ruccio Parri abbiamo nominato prima in un'intervista a Zavoli di Enrico Mattei parlò così quest'uomo che aveva tante capacità che se fosse stato fosse stato o andato in America era di quelli che sarebbero destinati a diventare i re i re di qualche cosa e qui in Italia preferì il servizio dello Stato voglio dire della collettività del popolo del bene comune questo è il suo grande merito che non è sempre apprezzato e mi permette ancora di aggiungere che è veramente stato una delle energie migliori più utili che la resistenza abbia dato al paese un uomo che in una stagione in cui ce n'era bisogno aveva coscienza di essere un personaggio nuovo politico imprenditore manager funzionario pubblico al vice primo ministro sovietico che in un incontro aveva definito l'ENI una grande impresa capitalistica Mattei rispose se lei mi vuole chiamare in qualche modo deve inventare un nome nuovo oppure se non vuole inventarlo mi chiami semplicemente Enrico grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti